Francesco Del Zoppo, presidente del club Daniele Sebastiani, socio fondatore, come è nata Francesco l'idea di intitolare il club al presidente Sebastiani? Il club ci è venuto spontaneo a Daniele perché Daniele in questi anni è riuscito a fare delle cose straordinarie, dal 2009 quando la società era fallita Oggi essere qui e parlare di playoff con una squadra giovanissima che sta tentando di vincere il campionato per noi era una cosa doverosa fare al presidente questo regalo William, dal club Giovanni Galeone al club Daniele Sebastiani sono passati tanti anni Dobbiamo tutti constatare che Daniele Sebastiani è ancora qui a dirigere un club che praticamente ha ottenuto anche dei buoni risultati e credo che sia doveroso un riconoscimento a questo personaggio che praticamente ha la capacità anche di gestire una squadra di calcio una società di calcio che praticamente ha grossi problemi, mai un punto di penalizzazione, mai uno stipendio arretrato quindi credo che sia una società che tutti additano come una delle migliori società nel mondo del calcio di serie B e quindi credo che questo riconoscimento sia doveroso Grazie